Avrò avuto 5 o 6 anni. Abitando a pochi metri dal negozio, mia madre mi aveva mandato a prendere dell'aglio. Avevo ascoltato distrattamente le sue indicazioni e poi ero uscita di casa. Arrivata all'alimentari, mi ero già scordata che cosa dovevo prendere. Era aglio o olio? Non sapevo bene la differenza. Allora decisi di chiedere all'aldo. Devi sapere che nel nord Italia è comune, anche se sbagliatissimo, usare l'articolo determinativo con i nomi delle persone che si conoscono bene. Ricordo ancora che il povero uomo si era preso la briga di spiegarmi che cosa fosse l'olio e che cosa l'aglio. Ero confusa. Ma riflettendoci, chi aveva mai visto quella strana cosa bianca prima d'ora? No, doveva certamente trattarsi della bottiglia che si usa per cucinare. Certa di aver fatto la scelta giusta, andai alla cassa. Nel tragitto verso casa incontrai mio fratello. Mi chiese che ci facessi con una bottiglia d'olio in mano. Serviva la mamma per cucinare. Che domande! Lui mi guardò e mi disse che ero una cretina. La mamma e il papà non compravano mai l'olio al negozio del paese. Mi ero pertanto sbagliata. Avrei dovuto comprare l'aglio e non l'olio. Arrivata a casa, la mamma si arrabbiò non poco. Confondere gli. E lì non porta mai a nulla di buono.